La quattordicesima stagione di Grace Anatomy è giunta al suo ultimo atto Giovedì 17 maggio, infatti, andrà in onda la ventiquattresima puntata che chiude Una stagione ricca di colpi di scena, video e clamorosi addi La scorsa settimana abbiamo assistito ad una puntata al cardiopalma in cui i fan di April Kepner hanno tirato un Sospiro di sollievo constatando che la loro beniamina, quantomeno, non abbandonerà la scena a causa di un incidente irreparabile La storyline di Arizona Robins ed April Kepner non avrà quindi un Finale drammatico come aveva preannunciato Ellen Pompeo in una recente intervista La prima, infatti, dovrebbe abbandonare lo show insieme all'ex fidanzato Matthew, mentre la seconda Si dovrebbe trasferire a New York insieme alla figlia, avuta da Callie Torres Un finale agrodolce che non tutti i fan hanno gradito, ma che lascia speranze per un possibile ritorno futuro Il promo dell'ultima puntata archiviati gli avvenimenti del ventitresimo episodio È ora di concentrarsi sull'ultima Puntata, video, che sarà teatro del tanto agognato matrimonio tra Alex e Joe Il sinossi ufficiale dell'ABC, rilasciata ormai tre settimane fa, non sembra svelare nulla di particolare Sono, tuttavia, le immagini promozionali ed il consueto promo a darci qualche informazione in più Una splendida Joe, Camilla Ludington, in abito da sposa, e un affascinante Alex Carev, Justin Chambers Si Trovano intrappolati sembra in un capanno in attesa di pronunciare i voti nuziali Come da tradizione nulla, però, è scontato Colpisce, in particolare, la frase pronunciata da Apri Kepner e Sara Drun che sgomenta afferma È una catastrofe matrimoniale Ecco il promo che anticipa la puntata Le immagini promozionali dell'ultimo episodio di Grace and Tommy Se il promo mostra una situazione ancora non ben delineata, ci pensano le immagini promozionali a fornire qualche anticipazione in più Al matrimonio di Joe ed Alex sono presenti tutti i principali personaggi del medical drama più longevo di tutti i tempi Dai nuovi specializzanti a Meredith Grey, Ellen Pompeo, si prospetta un'atmosfera festosa Ma sfogliando l'album qualcosa sta a perturbare il clima spensierato Meredith, Alex e Joe Fissano qualcosa Molte teorie rimandano ad un, semplice, incidente di percorso Che sia proprio il celebrante ad accusare un malore, non è dato saperlo Nel frattempo, non ci rimane che attendere la prossima puntata Speranzosi che tutto vada per il meglio In questo video le immagini promozionali